Mortale Va bene di qua? Sì Ok Sotto l'acqua è raccomandato proprio Ah sì Ma poi c'è il viscilino anche Stop Tio Barter, nooo Tio Barter Eh? Cassa Wild È nuovo questo pezzo qua comunque Sì 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 esatto qui Bello così Non è abbattutissimo eh Probabile È che quando la fai la prima volta va guardata E quindi Puoi mica andare a fuoco Ma siamo già arrivati Siamo già arrivati Cazzo No dai Non direi